In questo video vi facciamo vedere la batteria di test che compongono il protocollo del VO2 Max. Potete vedere Daniele Scardina, detto King Toretto, eseguire i tre test che compongono il nostro protocollo di lavoro. Innanzitutto lo vedete impegnato nel test del metabolismo basale, un test che dura più o meno 10 minuti, dove bisogna stare sdraiati assolutamente a riposo e a digiuno e al termine del test riusciamo a fornirvi parecchie indicazioni, quali ad esempio il rapporto tra grassi e carboidrati che vengono bruciati a riposo, l'introito calorico necessario per raggiungere i propri obiettivi di peso ed infine le calorie che vengono bruciate quotidianamente. Di seguito si passa al test della spirometria, ovvero alla valutazione della capacità respiratoria e della potenza respiratoria. Un test che viene ripetuto più volte, diciamo dalle 5 alle 7 8 volte e è molto affidabile in quanto ci consente di avere un quadro generale delle capacità respiratorie dell'individuo che poi andremo ad associare al test del VO2 Max. Test del VO2 Max che si può fare su Tapirulan, come state vedendo in questo video, oppure su Ciclette. Il test comprende un parametro check, ovvero comprende una individualizzazione dei parametri iniziali e dei parametri di incremento. Ci spieghiamo. Il test è composto da un riscaldamento iniziale ed una rampa dove ad ogni minuto viene aumentata la velocità, in questo caso di corsa. Come facciamo a sapere la velocità di riscaldamento e la velocità di rampa? Lo facciamo per l'appunto attraverso un parametro check, quindi una familiarizzazione dove il soggetto inizia a lavorare sul Tapirulan con la maschera. Questo è molto importante perché ci consente di arrivare al test vero e proprio dove il soggetto ha già provato cosa significa camminare, correre, correre velocemente con l'ausilio di una maschera. Inoltre ci consente tramite un'equazione che è provata scientificamente di individualizzare quelli che sono i parametri del test. Dopodiché si prosegue col test vero e proprio. Quindi come vi ho già anticipato una parte di tre minuti di riscaldamento e una rampa che non ha una determinata lunghezza ma per l'appunto viene effettuata fino a quando il soggetto non ce la fa più ovvero fino all'esaurimento e al termine del quale si recupera due minuti e mezzo sempre con la maschera sempre senza parlare stando fermi sul Tapirulan. Cosa ci dà questo test? Perché questo test è molto valido? Perché ci consente di avere un'infinità di notizie, un'infinità di dati utili per poi programmare l'allenamento. Tra questi ad esempio la Fatmax quindi l'intensità di corsa o di camminata alla quale si bruciano più grassi e le zone di allenamento utili ad esempio per strutturare un allenamento intervallato. Quindi conosciamo benissimo le intensità che ci servono per allenarci e inoltre abbiamo un importante numero di dati che riguardano gli aspetti della respirazione, gli aspetti metabolici e gli aspetti meccanici. Quindi andiamo a sviscerare dati sui nostri tre principali sistemi per vedere per l'appunto se c'è un limite che ci porta a rallentare la prestazione. Migliorando il limite si migliora poi la prestazione a tutti gli effetti. Non vi resta che prenotarlo. Grazie. Grazie.